In questo numero del Salus Tg, le industrie farmaceutiche straniere puntano sull'Italia, l'esempio di Elililli. Cassazione, non è punibile medico che usa strumenti ASL in Intramenia. Al via San Francisco il meeting dell'American Diabetes Association. La farmaceutica è il primo settore in Italia per investimenti esteri e la sua produttività in continuo aumento, è quanto ribadisce il presidente di Farmindustria. Se guardiamo all'indice di produttività negli ultimi 13 anni è cresciuto del 55% nell'industria farmaceutica contro l'1% della media manifatturiera. Fra gli esempi delle scommesse fatte sul nostro paese, quello di Elililli, che ha inaugurato a Sesto Fiorentino una seconda linea di produzione di insuline e investito 70 milioni di euro per nuovi progetti. All'evento anche il Ministro della Salute. Nonostante la crisi economica l'Italia è rimasta competitiva e noi abbiamo avuto una fortissima capacità di export perché le aziende hanno saputo investire in innovazione e ricerca. Non è punibile penalmente il medico che in regime di Intramenia utilizza uno strumento diagnostico dell'ASL senza incassare alcuna somma di denaro dal cittadino e conseguentemente non versando il corrispettivo per l'esame eseguito. A patto però che lo strumento in questione sia utilizzato come terzo occhio diagnostico per giungere a un chiaro inquadramento clinico. Con questa motivazione la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice del Tribunale di Grosseto che ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di peculato contestato a un chirurgo e all'infermiere che avevano utilizzato in regime di Intramenia un necografo senza versare il relativo corrispettivo all'ASL. San Francisco per cinque giorni capitale mondiale del diabete. È iniziato al Moscone Center il meeting dell'American Diabetes Association 2014, un appuntamento che riunisce fino al 17 giugno oltre 14.000 specialisti, medici, ricercatori e altri professionisti sanitari di tutto il mondo per fare il punto sulle ultime novità nella cura nel trattamento del diabete.